Equilibrium di Aya Equilibrium di Aya E' più buono sta anche nelle botti grandi Giusto Ora vediamo Marco che si gode golia fresca estate Sopra uno strato di frutta a Marco piace Sotto un altro strato di frutta a Marco piace e si vede Al centro uno strato di silitolo freschissimo Brrrr Golia fresca estate Una rivoluzione di gusto e freschezza Tutto l'anno Vince il premio Stinco di Santo Santo Noree E' più buono Qualcuno vuole un caffè? Dica la pazza Io Senti che profumo E' qualità rossa Chi può resistere? Scusi Pietro Senta ma noi Santi Ci diventeremo mai? E come no? Anche subito Guardamo eh Tadam Hai visto? Sono San Giovese E io grazie a lei Tadam Sono San Marzano Chissà dove ci metteranno a tavola E dove ci metteranno a menerzugo e allener fiasco Quest'estate parte bene chi cade in piedi Con navigatore satellitare Garmin a soli 139 euro Solo da Medioworld Chi si distingue sceglie Gran Soresina Gran Soresina Grande Perché dentro c'è solo la verità di chi produce grana padano da sempre Gran Soresina La verità ci distingue Con fetto fuori Liquido dentro Vivi The Blast Enjoy The Freshness Per voi e per gli amici Tassoni Quando nasce e lo allatti al tuo seno La sua pappa è liquida Pampers Progressi Ha studiato per lui l'esclusivo sistema cattura pupù Che assorbe la pupù liquida L'unico con i fori larghi Così è asciutto e pulito Grazie all'unica linea che lo accompagna nella crescita Con un pannolino specifico per ogni fase Pampers Progressi Nasce Cresce Corre Corre